amici sport economico zero ben ritrovati siamo con Chiara De Vito una delle protagoniste di questa squadra femminile del tennis club castiglionese pronta a fare il salto di qualità sì siamo arrivati a questo punto è un risultato che già ci eravamo prefissate l'anno scorso però ci sono stati un po di problemi fisici un po di problemi del del covid per far venire le straniere però quest'anno siamo riusciti ad arrivare fino a questo punto adesso manca giusto l'ultimo passettino no e speriamo di riuscire a finire in bellezza certi successi non arrivano mai per caso perché ci vuole passione impegno costanza ma soprattutto ci vuole sì siamo riusciti a stabilire cioè a formare un gruppo incredibile le piccole vengono dietro quello che si dice cercano di prendere spunto su tutto a partire dal riscaldamento la mattina cercano di rubare solo con lo sguardo anche alle straniere lo fanno di lavoro quindi si è creato un gruppo una famiglia che non tutti i circoli hanno ecco poi a questi impegni ci sono arrivati abbastanza preparanti perché non solo il percorso del campionato ma anche quelli che sono stati i tornei diciamo di preparazione dove le ragazze hanno portato a casa dei beni risultati si hanno vinto diversi open ultimamente e Agnese è il redus da tornei internazionali con degli ottimi risultati sia di singolo che di doppio quindi direi bene sta procedendo bene questa annata ecco e quindi a questo punto io ti ringrazio faccio un po' stesso in bocca al lupo e andiamo in campo grazie grazie